Il ritorno di Simone Tiribocchi al centro Bortolotti di Zingoni e il ritorno all'Atalanta. Che impressioni Simone? Ma impressioni importanti, belle, diciamo anche da brividi perché comunque non ero più tornato dai tempi da giocatore e quindi rivedere vecchi amici o comunque il posto dove veramente hai vissuto momenti belli della tua vita è sempre un piacere. Ci sei arrivato, ci sei ritornato qui a Zingoni in vesti diverse da allievo aspirante allenatore, quindi da grande vuoi fare l'allenatore? Sì, diciamo che stavo ancora giocando quando mi hanno proposto sta cosa e l'ho accettata perché comunque ho sempre avuto questo desiderio soprattutto anche di lavorare con i ragazzi e quindi mi ci sono buttato a capofitto, questo è il terzo anno, siamo al corso finale e quindi è una cosa che mi piace sto prendendo spunto un po' da tutti perché c'è sempre da imparare e quindi ora mi sono infilato in questa strada, vediamo dove arriverò. Atalanta si è infilato in una gran bella strada in questo campionato. Sì, sì, ottimo direi, sono veramente felice, ho tanti ancora amici tifosi che mi scrivono di andare in curva e magari chissà prima o poi o magari in Europa, perché no? Io ho visto un ambiente sano, ho visto dei giocatori che stanno lavorando veramente bene, con passione, con determinazione e questo veramente fa piacere. Poi ricordo che questo ambiente è uno dei migliori in Italia e quindi è normale che sia così.